Ma ammazza quanto costa, non ci ho mai fatto caso? Sì, è un intro un po' particolare. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi vediamo quanto costa la simulazione di guida. Ragazzi, in dieci anni ho fatto un calcolo e più o meno sono a circa 1500€ di spesa solo di simulazione. Una media di 150€ all'anno spesi per avere un software che mi dà la possibilità di sfruttare la mia postazione. Non mi pento di nulla, sono contento, però comunque è interessante capire quanto costa fare simulazione di guida. Questo potrebbe dare spunto anche ecologico e capire anche quanto si spende di elettricità. In realtà il calcolo l'ho già fatto, se siete interessati lasciate un commento, magari lo faccio un video in merito. Per tornare a noi, allora quanto costa e perché questo video? Allora, intanto voglio ringraziare Alex Ballatore perché nel video in cui rifletto su Automobilista 2 e delle possibili cause del perché è così disertato, mi scrive, ma magari sarà il prezzo? Hai visto quanto costano i DLC? Eh, quanto costano i DLC? Se andiamo a guardare quanto costano i DLC può far paura, ma sapete perché? Perché i ragazzi di Steam fanno i furbi. Adesso vi faccio vedere, guardate. Iniziamo proprio da Automobilista 2. Di base costa 36,99€, ma se siete attenti vi offrono Automobilista 2 più il Season Pack e questo Season Pack contiene tutti questi DLC già usciti ed anche l'Adrenaline Pack che sta per uscire tra poco con la nuova versione 1.5, questa patch che aspettiamo tutti. Ok? Se fate il calcolo di tutto questo sono 343€, però qua dentro c'è il Season Pack che ce l'avete già qua. Quindi non è da tenere in considerazione perché tutto questo contiene tutto questo. E più qua dentro c'è il Premium Track più il Premium Expense Unpack, scusatemi in inglese, che praticamente sono questo il Track, il Premium Track che prevede tutto questo, e il Premium Expense Unpack che prevede tutto tranne questo che prevede il Premium. Quindi, a Steam, ma che stai facendo? Ecco perché fa paura col 343€. Ma in realtà in questo istante costa tutto Automobilista 2 più tutti i DLC costano 80,99€. E qua potreste dirmi, mamma mia quanto costa, e quanto costa? È in linea con il mercato se non più basso. E adesso ve lo dimostro. Però c'è una premessa da fare, che già sto per leggere i commenti. Fabri, ma basta andare su Instant Gaming, basta andare su CDK, basta... E ci sono anche altri modi. Sì ragazzi, sto soltanto esaminando i prezzi ufficiali del rivenditore ufficiale, che si chiama Steam, anche se li lasciano delle chiavi, eccetera. Quindi parliamo di dati concreti, perché altrimenti sarebbe un video che durerebbe tre mesi, perché ogni due secondi cambiano, ci sono una marea di siti che offrono delle keys. Quindi ovviamente qui abbiamo bisogno di un'indicazione di un prezzo ufficiale. Quindi 80,99€ in questo momento per avere tutto Automobilista 2. E RaceRoom? RaceRoom costa zero. Free to play. Sì ma stiamo parlando di completo. Ah, completo. Beh, completo ragazzi costa 99,79€ come il Premium Pack. Ce ne sono altri tra il Starter, Amateur, non so come si chiama. Però ovviamente se uno vuole quello completo, 99,79€ che costerebbe anche di meno se comprate i VRP, che sono la loro moneta, costerebbe forse 10€ di meno. Però è un'istantanea, in quel momento comprate tutto. Se poi esce un altro DLC, non ce l'avete. Quindi questo è da specificare. Quindi 99,79€ contro 80,99€ di Automobilista. Non è protagonista automobilista in questo caso, però siccome sto rispondendo al commento anche di Alex, quindi giustamente devo fare sempre il riferimento. Vabbè, mi sto imbrogliendo da solo. E R Factor 2? Andiamo a scoprire. R Factor 2, ragazzi, costa 28,99€ più... Facciamo quindi 28,99€ più... Andiamo a scoprire... Magari se ci sono pack. Allora, c'è il pack 2022, the complete pack. Quindi praticamente tutto quello che è uscito fino al 31-12-2022, ce l'avete a 99,99€ più il gioco di base, più è uscito il Q1 All-In Pack, quindi il quarter, cioè i primi 4 mesi, tutto quello che è uscito nei primi 4 mesi del 2023, che sono altri 11€. Totale 139,98€ per avere tutti i contenuti ufficiali usciti fino adesso di R Factor 2, contro 80,99€ di Automobilista 2, quindi già potrei dare una risposta ad Alex, dire Alex, vedi, non è che ci sono circa 60€ di differenza tra R Factor 2 e Automobilista 2, senza fare i confronti di simulatori, ragazzi, stiamo parlando di prezzo, eh? Ok? E rispetto anche al RaceRoom, diciamo che è in linea, se non meno caro. Manca un grande come assetto corsa competizione. Andiamo a vedere quanto costa. Allora, assetto corsa competizione costa di base 39,90€, quindi. Quindi 39,99€ più tutti i DLC. E poi mi dite, ma allora, no? Ogni singolo DLC, come vedete qua, è autonomo, non dipende uno dall'altro, cioè non ce n'è uno che contiene l'altro. Quindi, se volete tutto, sono 98,93€. 138,92€ che è in linea con R Factor 2. Ma mi sa che ci sono anche 57€ di differenza con Automobilista 2. Quindi possiamo scartare completamente, Alex, do sbaglio il discorso, ma magari costa di più. No, che Steam fa questi scherzetti. Quindi scartata questa cosa qua, adesso mancherebbe il non plus ultra del dispendio per fare simulazione. Lasciamo stare gli altri. Carcraft, assetto corsa 1, eccetera. Andiamo da The King of The King of Money. High Racing. Adesso, ragazzi, High Racing, ragazzi. Season 3, how I am now. Allora, vi dico subito. Aggiornato al 21 febbraio 2023, quindi mancano tutti i contenuti da febbraio 2023 ad oggi. sono 2.035,77 dollari che, tradotti in euro, sono 1.813,67€. 1.813,67€. Ovviamente è il King of The King proprio perché ha questo costo esorbitante se uno lo prende cash immediatamente. Ovviamente il mio è un video che parla di realtà. Questo è il costo effettivo di tutti i simulatori, cioè quelli che ho trattato, se uno li vuole interi, completi, ok? Quindi mi pare che Automobilista 2, ripeto, caro Alex, sia in linea, se non meglio in alcuni casi, rispetto a quello che è l'offerta del mercato. Ma, ovviamente, non c'è bisogno di sottolineare il fatto che non è che sia obbligato a prendere il tutto, soprattutto su High Racing, almeno che tu non sia uno sceicco. Allora, puoi prendere tutti i singoli contenuti che ti interessano, così come lo offrono tutti i simulatori. Però, insomma, era interessante capire quanto costa avere un simulatore completo a livello software a casa, ragazzi. Quindi, e quindi niente, ragazzi, vuol dire che High Racing praticamente dovrei spendere quello che ho speso più di quanto ho speso in dieci anni per poterlo comprare tutto. Vabbè, aspettami, High Racing, che sto arrivando. Vabbè, ragazzi, allora, io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto io sono contento perché comunque è stato grazie ad Alex che ho potuto fare, prendere sfunto e fare questo video interessante per capire quanti cavolo di soldi ho speso nella simulazione di guida. Spero che vi sia piaciuto, quindi lasciate un pollice in su se è il caso. Iscrivetevi al canale, ragazzi, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo. Ragazzi, io vi aspetto su Discord come al solito, così ci divertiamo, facciamo delle serate fighissime. Ricordatevi che c'è il campionato a settembre. Iscrivetevi. Da Fabrice è tutto. Un abbraccio. Ciao!